Buongiorno Erika e Vanessa, con cosa ti posso aiutare? Aiuto! Oh, ma avete delle mani così belle! Che niente! Uffa, che difficile lavorare con voi! Siete due star e vi permettete il tutto! Signorina, non ti permetto di parlarti così! È vero, costa un sacco di soldi! Si è rotto i denti a me! Cosa è successo? Sì, pronto? Centro estetico Elena? Buongiorno, io mi chiamo Erika E io mi chiamo Vanessa Buongiorno Erika e Vanessa, con cosa ti posso aiutare? Io voglio prendere un appuntamento per le unghie Ho capito, per le unghie Avrei disponibilità anche oggi per le undici Per lei va bene? Anche la mia sorella vuole avere un appuntamento per le unghie Ehm, va benissimo, ce l'ho ancora due posti liberi Vi aspetto per le undici A dopo, buona giornata! Mmm, due appuntamenti, due sorellini Oggi ci divertiremo! Restate con me Vado a preparare tutto Sì, entrate! Ah, che bello qua dentro! Ah, che bello qua dentro! Ma buongiorno, signorine! Buongiorno! Che carine, siete bellissime tutte le due! Ma dovevo scrivere! Cosa volete scrivere? I nostri nomi No, non serve, signorina Vi dovrò scrivere i vostri nomi Quando vi dovrete pagare per tutto quello che farete oggi Io voglio le unghie rosse Wow, ma siete bellissimi Allora, signorine, perché oggi faremo il massaggio Le maschere Il prezzo cambierà Siete d'accordo? Sì, cosa sono questi? Qua sono due tipi di maschere In conformità con le vostre mani Li faremo Dopo dovremo lavare bene Un scrub Una cosa che si fa Sono due creme Ho capito Avete capito? E dopo tutto Andiamo a fare un massaggio e non la chiave Sì, sì, sì Siete d'accordo? Perché vi dico Il prezzo è molto alto Ce la farete a pagare Nel senso Siete piccolini Mi vedo così Ok, cominciamo? Chi comincia prima? Io Facciamo sesso carta forbice Vabbè, fate quella cosa Sesso carta forbice Sesso carta forbice Tu Ok, chi comincia? Cominci tu Allora, voglio capire un po' Come vi chiamate Tu sei? E tu sei? Vanessa Vanessa Ho capito Ci divertiremo Oh no Cominciamo con la Erika Voglio vedere Vi spiego cosa Ho preparato qua per voi Qua ho messo il miele e il latte È una maschera Cioè, vi fa le mani Da una principessa così piccolina Cioè, ma voi avete una pelle Wow Siete venute da me Per farli belle Qua è un scrub Ma prima ti dobbiamo mettere qua Bisogna mettere i guanti È una cosa molto importante Siete pronte? Va bene Allora, per lei Questa maschera È ideale E per lei Signorina Cominciamo Posso mettere le mani? Allora Mettete qua dentro Preparatevi Aiuto Oh, ma avete delle mani così belle Bisogna mascheggiare Signorina Aspetta per favore Mi capite l'edito No No Ma cosa Mi sento male Sentendo queste cose No Signorina Eh, bisogna essere Trattata bene Aspetta Ogni dito Massaggiato Oh Vi dovete sentire Come due principessi Dovete sapere Che io offro I servizi di alto livello Metti qua dentro Signorina E stai così con le mani Fermati Ti devi fermare Se no Uscirà una cosa Brutta Mi raccomando Qua Signorina Pronta Aiuto Mi Questo Fa le mani Molto Molto Morbide Elimina I celluli Morti Ogni dito Faremo Nella Faccia No Vi vorrei chiedere Anche una cosa Offro anche dei servizi Molto Molto Speciale Per Le nuove Cliente Vi posso fare Un tatuaggio Glitterato Wow Sarà un Piccolo Regalo Ecco Che tatuaggio Ok Quell'altra Manina Ma che Quale Tatuaggio Che È Una Sorpresa Ecco Signorina Questi sono le mie papine Ma lei Hai I pelli qua Signorina Devi trattarti bene Non dimenticare Io tanto C'ho le mie papine Ma Ma cosa sta dicendo Ma cosa sta parlando Quelli non sono papine Guarda che Costa un sacco di soldi Non è vero Signorina Non ti permetto di parlarmi così E' vero Costa un sacco di soldi E in giro Non trovi mai Queste maschere Sono solo io Che offro questi servizi Cioè Mi state Mi state Mi state Sentire male Mi fate veramente Sentire male Mescolate Signorina Ok Questi da buttare Potete mescolare ancora per 5 minuti Le vostre manine È arrivato il momento di lavare bene le manine Aspetta signora Signorina Mi scusi Allora qua Bisogna fare così Stop Eccoci Come ti senti? Buono Com'è questa? Io mi spalmò Maschera Come sentite le vostre mani? Bene Bene Le mani belli belli Sono due principesse Con le mani belli Mi piace? Ci offro dei servizi Sai vedi che canto anche? Guarda Ai matrimoni Voi conoscete i canzoni? Cantate? Sì Cosa state facendo? Io canto Io canto La rena di Porronò Sentiamola La rena Porronò Insieme dove va Insieme petterà A tutti i bimbi buoni Da mi dove va E tutti i bimbi giù La patta da mi dove va A me dove va Gindol da Gindol da Gindol da Gindol da Signora Signora Sì Mi dica Scusi Mi devo lavare su le mani Mamma mia Cosa mamma mia? Cosa mamma mia? L'acqua E' l'acqua Con un sapone Fiori di rosa Ma guarda che sporca La morbidezza Senti? Sì Ok Asciughiamo bene le manine Io voglio colore rosa Senti il profumo Sentite che profumate Sono Le manine Ma quando facciamo le unghie? Adesso Pazienza Bisogna scegliere un colore E' qua Qui ci sono tutti i colori Io tanto voglio E dopo? Io voglio rosa Il massaggino Io voglio rosa Colore rosso? Sì Semerina Erika Lei? Cosa desidera? Rosso Anche io rosa Le unghie rosse? Sì Tutte due? No ma non Queste Glitter Ma hai messo le mangini Glitter Qualcosa No voglio questo Molto molto speciale Ma Una domanda da farvi Da farla Avete qualche evento Per cosa state facendo le unghie? Perché Abbiamo un concerto Che dobbiamo cantare Veramente? Sì Ma dove fate questo concerto? A Vino Biniere Che bello Forse potrò venire anch'io A vedervi Va bene Potrò avere un invito speciale Da parte vostra? Sì Che bello Non vedo l'ora Ho capito Sono molto molto attenta Tranquilla Avete veramente le unghie Molto molto belle Curate Bisogna tagliare Tutta questa cuticola Che Crea una manina Una unghia Desordonata Ok Quando vai da un estetista Sempre ti rilassi Bisogna tagliare Adesso Si è rotto il dente Cos'è successo? Io vado dal dentista Dal dentista? Mamma mia Che bello E dormirò Dormerete lì? Ma andrete fuori In Italia? E la dottoressa Mi darà un palloncino Che bello Che meraviglia Vorrei andare anch'io Dal dentista Allora Non si muova Signora Signorina Perché bisogna tagliare Tutta questa cuticola La vedete? Sì Mamma mia Ma C'è tanta pianicina qua Che si deve tagliare Tutta 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 Ecco fatto Con lei ho finito Bisogna avere un po' di pazienza Perché si deve disinfettare Tutto Quello che c'è qua Colore rosso Wow Eccoci Wow Io vi tratterò Molto Molto Bene E ci vediamo Anche alla prossima Perché bisogna Rinnovare il colore Cambiarlo Ogni tre settimane Mi raccomando Piace il rosso Mi raccomando Bisogna prendere Oggi L'appuntamento Per la prossima volta Se no Faccio fatica Faccio fatica a trovarvi Un posticino Mettete Qua dentro Nella lampada Mi dia quell'altra manina Ma devi Ma devi Accendere No Questa lampada È l'ultimo modello Non si accende più È una luce Invisibile Che asciuga In 30 secondi Eccoci qua E anche questa Così Bisogna mettere veloce Quello giallo Desidera? Sì Ok Non si muova Signorina Aspettate Eccoci Bisogna aspettare Un pochino Perché si deve asciugare Va bene? Sì Non toccate Per favore niente È una cosa Molta molto importante Si deve fare Con tanta Attenzione Se no Probabilità Di rovinare Tutto Eccoci Non tocchi niente Anche io Quell'altra manina Voglio uguale Per favore Ok Io faccio Prima Abbiamo finito Con queste lampade Li mettiamo Li Io questa cremina Signora Aspetta Signorina Non tocca Niente Per favore Uffa Che difficile Lavorare con voi Siete due star E vi permettete Tutto Eh 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 Ci fai vedere Anusate Che cosa? Questa è più buona Del mondo Questa crema E io voglio questa Va bene Come lei desidera Anche io voglio questa Ok pronte Mettiamo Così fa la pelle morbidissima Un po' di crema Ma non sulle unghie Sulle unghie Non si mette Certo Ma nella vita Cosa state facendo? Facciamo youtube Siete delle youtuber? Sì Che bello E come vi posso cercare? E scrivere Erika e Vanessa Sì mi avevi detto Anche prima Cosa? Come ti devo cercare? Erika e Vanessa Erika e Vanessa Erika e Vanessa Ok E domani Fariamo Quello video Quale video Volete fare? Sì? Io non lo so E domani Facciamo Questo video Ho capito Ho capito Ecco E domani Che disegniamo qua Allora Volete fare un video qua? Sì Del mio centro estetico Sì Veramente? Sì Che bello Allora Facciamo Una bellissima Collaborazione Insieme Ho un grande onore Di dirvi Che Tutto quello Che abbiamo fatto Oggi È gratis Sì Così Pubblicherete Il video Sul vostro canale Del mio centro estetico È una bellissima No signorina Aspetta Aspetta Non ho finito Non ho finito Ma dobbiamo andare ancora No 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 Bisogna farvi anche Il tatuaggio glitterato È un bellissimo Regalino Da parte mia Per voi Io lo metterò Qua Vi faccio vedere Qua Sono le lettere Qua È una corona Una farfalina Se la vedete Una principesina Un fiore Una sirenetta Un gattino E un altro gattino È una sirenetta Fucsia Sicura? Sì Va bene Non si muova Signorina? Tutto fucsia Perfetto Certo Tutto fucsia Certo Wow Vediamo Non si muova Per favore Eccoci qua Togliamo Togliamo Tutto Togliamo 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 Ed ecco qua La bellissima Patina Patina Per favore Non toccate Ancora niente Perché si può Adesso anch'io Signorina Signorina Non toccate niente Lasciate così 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 Erika La coda La facciamo verde Sì E il corpo È finito Fucsia Fucsia È finito Fucsia Allora facciamo Di questo Va bene Come lei Ficcita Dobbiamo comprare Una trofucsia È vero? Tranquilla Signorina Sì 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 Comprerò tutto Tranquilla Guarda Elena Sì Per favore Non toccate niente Perché potete rovinare Le unghie È il lavoro Eh sì Non toccate Pronta Signorina Eccoci qua La bella Sirenetta Io voglio fare tanto questo E aria Voglio fare Questo Signorina Come vi siete Trovate Da me? Bene Siete contenti Sì Del mio lavoro Sì Sono contentissima Anch'io E ci vediamo Più tardi Perché verrò Al vostro concerto Non vedo l'ora E domani Verriamo qua Sì Domani Vi aspetto Per fare Questa bellissima Collaborazione Alle 11 Alle 11 Sì Va benissimo E niente Sono contentissima E ragazzi Speriamo Che questo video Vi sia piaciuto E non mi ricordo Iscriviti Allo nostro canale E mettete Sì 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 Ciao!